I fondi comunitari modificando il quadro temporaneo degli aiuti di Stato per far sì che le regioni potessero utilizzare i fondi della programmazione per venire incontro alle esigenze delle imprese, anche perché no delle famiglie, perché poi i rincari ricadono a cascata sulle famiglie. Questo bando quindi testimonia la capacità della macchina regionale di attivare subito con la Commissione europea degli aiuti che possono essere erogati anche molto velocemente. E' in questo il ruolo di Fincalabra, da facilitatore di queste esigenze in qualità di soggetto gestore, garantirà attraverso l'utilizzo delle piattaforme informatiche l'erogazione, quindi la selezione prima ovviamente delle domande, gli istruttori e l'erogazione degli aiuti. Sì, è vero, la resilienza delle nostre aziende è ormai testata, sono molto forti, sia nella fase post-pandemica nella quale abbiamo erogato importanti contributi, sia oggi con i rincari causati dalla guerra in Ucraina, hanno resistito. Però è anche importante che l'azione pubblica dia ristoro a queste esigenze anche di liquidità che sono importanti per mantenere non soltanto la competitività delle aziende, ma anche i valori occupazionali attuali, è importante. Quindi questo bando si inserisce proprio in questo solco per cercare di dare alle imprese che hanno resistito con molta tenacia un ulteriore sollievo. Le procedure sono ormai quelle testate, Fincalabra ragiona in modo totalmente informatizzato, abbiamo prodotto prima una manifestazione di interesse per verificare anche quale fosse il fabbisogno. Questa ha prodotto dei risultati importanti, tant'è che poi con una delibera di giunta regionale si è attivato il fondo. La procedura prevede un caricamento delle domande prima, fino al 21 settembre, poi dal 22 si aprirà lo sportello per il click day, chiamiamolo così, per immettere fisicamente la domanda nei sistemi informatici. Come dicevo prima, la fase di istruttori e di erogazione dei contributi sarà velocissima, quindi questi soldi arriveranno prima della chiusura dell'anno. E sono importanti risorse, 60 milioni di euro per il tessuto imprenditoriale calabrese, insomma non è cosa da tutti i giorni. Questa misura, il SAFE, costituisce un aiuto concreto alle imprese calabresi che verranno così indennizzate integralmente, del maggior costo sostenuto per i consumi energetici nel periodo 22-23 rispetto al 21-22. Il governo regionale, in linea di continuità con i precedenti provvedimenti assunti, ha inteso sfruttare un regolamento comunitario approvato qualche mese fa ed ha messo in piedi subito questa misura. Adesso toccherà alle imprese calabrese e ai loro consulenti caricare le domande sul sito di FinCalabre dall'11 al 21 settembre e il 22 inviarle. Sì, direi senza probabilmente, queste risorse dovranno essere distribuite alle imprese entro la fine di quest'anno. Proprio per questo abbiamo fatto tutto in maniera molto breve, molto stretta, nel giro di dieci giorni, quindi le imprese presenteranno le proprie istanze e a brevissimo, dopo l'istruttoria naturalmente saranno erogate le risorse. Di che impegno economico parliamo? Parliamo di 60 milioni di euro che vengono messi a disposizione, i costi ammissibili sono nella misura del 100%, quindi l'intera somma che verrà richiesta e verrà erogata fino a un massimo di 2 milioni per impresa. La procedura è abbastanza semplice e veloce? Vogliamo illustrarla? La procedura è semplice e veloce e le imprese ne hanno già avuto conoscenza perché c'è stata una manifestazione di interesse precedentemente pubblicata alla quale le imprese hanno preso parte, quindi conoscono già la procedura. Abbiamo notificato naturalmente la procedura alla Commissione e come dicevo prima abbiamo sfruttato l'opportunità straordinaria che è stata posta a disposizione da un regolamento comunitario che risale a marzo. C'è voluto qualche mese di tempo per mettere in piedi la procedura ma abbiamo fatto nel più breve tempo possibile. Riteniamo che ridurre i costi energetici significhi aumentare la competitività delle nostre imprese.